Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, per tutti noi fans una notizia che riguarda il nostro amato Jean Yaman. Il nostro attore sembra che sia finito nei guai finendo tra le prime pagine scandalistiche in Turchia. Andiamo nei dettagli, a riportare la notizia è il portale Coming Soon. Jean Yaman quanto pare ha violato alcune regole riguardanti la situazione particolare che sta attraversando il nostro paese. E' stato accusato di aver partecipato ad un party in occasione della festa di Halloween, violando così le norme anti-Covid e dando il cattivo esempio ai suoi moltissimi fans. Scandalo che però si è rivelato come una notizia falsa. Infatti sempre Coming Soon riporta che su web hanno iniziato a circolare diverse foto di Jean Yaman abbracciato a ragazze travestite appunto in occasione per la festa di Halloween, non rispettando le dovute misure di stanze di sicurezza. Ma quanto pare si tratta proprio di un falso scandalo, visto che il nostro affascinante Jean, quando è stato ospite in Italia, ha sempre fatto in modo di non avvicinare nessuno e di compiere tutti i suoi spostamenti in totale sicurezza, con tanto di mascherina super fashion e disinfettante sempre a portata di mano. Nonostante infatti le fan si siano appostate davanti all'uscita dell'albergo dell'attore, lui non ha mai fatto nulla per entrare a contatto con loro. Quindi, proprio per questo, sembra piuttosto improbabile che Jean Yaman possa avere indignato il web e la sua reputazione per una festa in maschera. Tanto che a dimostrare il falso scandalo è stato il blog Fashion Shop TV, che ha fatto notare come le foto apparse sui social siano chiaramente dei fake create ad arti con Photoshop. Quindi noi fans possiamo restare tranquilli, il nostro Jean Yaman è stato solo vittima di un gossip anche se poco piacevole. Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!